No, ma io sono proprio qua sotto... 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 Possiamo anche tenere l'assemblea permanente e continuare a rieditarla durante la giornata. Potremmo noi... Macau c'è una programmazione oggi, eh? Selezioni pure... Magari anche... Mala, Mala, Mala... Vabbè ma non per me non sei se stai volando. Mala, Mala, Mala Mala! Mala, 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 Mala Mala, Mala... Mala, 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 Mala. E io ne stavo con il Lindo perchè la partecipazione è stata veramente tantissima. E' un silenzio colpevole, colpevole! E' un silenzio colpevole! E' un silenzio colpevole! Grazie.